Vittorio Veronesi, partigiano e poi sindacalista dei Braccianti, ucciso la notte del 17 maggio 1950 a Porto Mantovano. La squadra parte a mezzanotte, perché i crumiri sono impegnati di notte nelle operazioni di mungitura. Si pedala in silenzio, seguiti solo dai cigolii delle biciclette. Forse sono tesi. Le ultime giornate non sono state tranquille, lo sciopero per il nuovo patto bracciantile è difficile. Durante il largo giro nella notte, forse si sono divisi e procedono a distanza. Vittorio e Nerino sono ancora vicini, non distante c'è anche un terzo compagno, Angelo Montironi. Ora stanno proseguendo a piedi lungo quella strada senza uscita. Li immagino che si scambino qualche parola, ma forse Nerino non ha voglia di parlare proprio ora di quanto sia diventato difficile organizzare uno sciopero. E così distrae Vittorio saltando con i pensieri all'indietro, ai momenti eroici di pochi anni prima. Domani sono sei anni che è morto Dante di Nanni, lo hai conosciuto in montagna? No, risponde Vittorio quasi sotto voce, ma ne parlammo molto. Ne parlaste? Ne parlammo. Di dove era? Di Torino. Torino. Torino, ma la famiglia era pugliese. E con i partigiani dove salì? Con i partigiani, a Boves, dove le SS fecero un eccidio. L'eccidio di Boves. Gli eccidi di Boves. Poi tornò a Torino con i gap di Giovanni Pesce. Fu allora che lo presero? Dopo. Lo ferirono con la pistola, si nascose convalescente, ma ci fu una spiata. Una spiata. Una spiata come i crumiri. Come i crumiri. Forse anche peggio. Sì, anche peggio. Circondarono la casa, ma lui era armato e combatté come un forsennato. Un forsennato. Un forsennato. Si disse che quando finì i proiettili alzò il pugno chiuso e si buttò dalla finestra. Sono arrivati a pochi metri dalla siepe che segna il confine della cascina. Davanti a loro si materializzano alcune ombre che non sono fantasmi, ma persone reali di un'altra umanità contrapposta. Li stavano aspettando. Sono armati di fucili e pistole. È solo un attimo, ma in quell'attimo quelle ombre hanno il tempo di farsi avanti, senza concedere a Vittorio Ennerino nemmeno il tempo di pensare. Forse ci sono anche urla e grida. O forse no. Il colpo però parte subito e trapassa i polmoni di Vittorio. Sono le 1.50 di notte. L'aria sembra scoppiare, il buio inghiottirsi ancora di più su se stesso, come risucchiato dal lampo dello sparo. Vittorio stramazza a terra, coperto di sangue. Sembra già morto, o comunque non si muove. Nerino corre, perché gli gridano appresso e lo inseguono, sparandogli come fanno i bracconieri quando sono eccitati dalla preda in affannosa fuga. Nerino forse ne riconosce le voci. Corre ancora più forte di quanto si possa correre, ma non quanto basta. Gli inseguitori non desistono, lo braccano. Nerino corre, sente il sangue colargli dalla bocca. Dovrebbero già averlo colpito alla schiena. Grida che non gli sparino più, ma quando lo raggiungono gli sparano ancora. Forse lo credono morto, o forse non gli interessa nemmeno più. Lo lasciano a terra ferito e tornano indietro a controllare Vittorio. Devono toglierlo di mezzo. Non può restare lì a terra davanti alla siepe della cascina. Lo trascinano via per 500 metri, come una bestia senza più vita. Come faranno le persone a rendersi assurde con tanta noncuranza? Non potrò mai capirlo. Dopo 70 anni, appare alquanto bizzarra la ricostruzione dei fatti negli atti di inchiesta e del processo, dove non compaiono mai avvocati e le parti sono addirittura capovolte e Vittorio è dipinto come un aggressore. Suo fratello Adelchi recupera i vestiti insanguinati e lacerati di Vittorio. Li mette in una valigia che cerca di consegnare a chi si occupa del processo. Secondo Adelchi, sono prove importanti per ristabilire la verità, ma si rifiutano di riceverlo. Gli tocca riportare a casa la valigia con i vestiti del fratello.